Un team di Formula 1 deve essere guidato da uomini particolari che riescono a galvanizzare tecnici e piloti. Luca Montezemolo appartiene a questa razza. La Ferrari, sotto la sua guida, è tornata ai vertici mondiali. È un entusiasmo genuino il suo. Lo abbiamo visto improvvisare un match di pugilato con i gendarmi di Monaco. L'abbiamo visto rompersi una gamba ai box per l'urto della Lotus di Peterson e in quelle condizioni rifiutare di abbandonare la corsa. E' stupido, questo. Ok. 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 Ok